Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi vi porto la review di Hulk in versione ATT, punta. Questa versione è stata ottenibile dai pacchetti solo in occasione dell'evento del compleanno di foot, svoltosi dal 21 al 28 marzo. Inizio subito col dire che nonostante mi abbia segnato abbastanza, ovvero 18 gol in 15 partite risulta abbastanza difficile da usare in game. In che senso? Essendo un ATT adattato, ovvero la sua carta originale un'ala, non aspettatevi dei movimenti da punta. Lui piuttosto che inserirsi alle spalle della difesa si allargherà, perché ripeto, è comunque un'ala adattata. Quindi il primissimo consiglio che do io è quello di usarlo in un attacco a due, così anche se lui si allarga rimane comunque l'altro attaccante centrale, e in questo modo lo si riesce ad usare bene. Passando subito ad analizzare le statistiche, troviamo un 85 velocità sulla carta che diventa un 84 accelerazione e 85 velocità scatto. Qui magari da ala questi valori potevano risultare bassi per alcuni che, ad esempio se non vedono un 90 velocità sulla carta, ignorano quel giocatore, però essendo ATT questa versione, quel 85 è più che ottimo. Passando al dribbling troviamo un 82 sulla carta che diventa un 72 agilità, valore abbastanza basso ma che in game sembra qualcosina in più. Solamente 59 d'equilibrio che però viene compensato in gran parte dalla forza fisica e quindi non cade comunque nei contrasti. 83 riflessi, 84 controllo palle e 84 dribbling che gli permettono di saltare l'uomo nella maggior parte dei casi, anche se non sono proprio dei valori altissimi. Per quanto riguarda il tiro troviamo uno dei due veri punti di forza di questo giocatore. L'ottimo 87 sulla carta diventa un buon 83 posizionamento, un 85 finalizzazione che però c'è da dire che a differenza dell'agilità rende qualcosina in main in game perché alcune volte sbaglia cose che non dovrebbe sbagliare. E poi passiamo al pezzo forte, 94 forza tiro unito a 90 di longshot, statistiche spavendose. Con lui basta tirare da fuori ed essere posizionati bene per segnare, tira delle cannonate assurde. Anche in partita, se ne avete l'occasione anche da 30-35 metri tirate perché veramente vi butta giù la porta da qualsiasi distanza. Tornando alle statistiche troviamo un 73 tiri al volo che è una statistica abbastanza bassa però difficilmente vi troverete a tirare al volo con lui. E un 80 per quanto riguarda i calci di rigore che però c'è da dire che in questo gioco anche un portiere può segnare tranquillamente un rigore quindi è una statistica abbastanza opinabile. Per quanto riguarda le statistiche di difesa io le salterei anche perché l'unica che ci potrebbe interessare è la precisione testa ed ha un valore abbastanza basso di 68. Andando a vedere il passaggio troviamo un 81 sulla carta che diventa un buon 80 visione, un ottimo 80 cross che come ho detto prima lui tende spesso ad allargarsi quindi quel valore gli torna abbastanza utile. Un 84 precisione punizioni che è una statistica buona però seriamente. Con quella forza tiro a che ci frega di tirarla a giro si tira di potenza e ciao. 83 passaggi corti che è un valore molto 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 buono per un attaccante. 78 passaggi lunghi e 80 d'effetto. Anche qui vale lo stesso discorso delle punizioni perché tirare a giro quanto puoi tirare giù la porta di prepotenza. Passando al fisico troviamo un bello 86 sulla carta che si divide in 72 elevazione che è un valore basso e unito al fatto che non sia neanche lui altissimo come giocatore non gliene fa prendere una di testa neanche per sbaglio. 84 stamina valore abbastanza nella medio e poi troviamo il 90 di forza fisico. Qui veramente nulla da dire. I difensori piuttosto che spostare voi sarete voi a spostare i difensori a passargli in mezzo con facilità. Infine 84 aggressività anche qui valore abbastanza nella medio. Ricordiamo le 3 stelle piede debole e le 4 mossabilità che lo rendono ancora più versatile di quanto già non possa essere. Per finire andiamo a ripilogare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro assolutamente forza fisico e tiro uniti alla velocità e alle punizioni. Tra i contro ho messo solo i colpi di testa perché è l'unica vera mancanza di questo giocatore, altri difetti grossi non ne ho trovati. Come modo finale ho dato un 7 e mezzo non perché non sia un buon giocatore ma perché per farlo rendere bene dovete incentrare totalmente il gioco su di lui. Oppure veramente non rende come dovrebbe. La review termina qui, vi ricordo di lasciare un like e commentare per farci sapere cosa ne pensate e di iscrivervi ai nostri social su facebook, telegram eccetera. E nulla. Un saluto. Ciao ciao.